Vitpilen 701 tradotto freccia bianca. Questa è una delle novità presentate da Husqvarna che concretizza quel compset visto due anni fa proprio qui ad ECMA. Motore monocilindrico, 75 cavalli di potenza, davvero un valore molto molto elevato, un design minimalista ma caratterizzato fortemente, caratterizzato da una tecnologia di altissima avanguardia. Per capirlo basta guardare dettagli come le leve ma soprattutto come il suo, come la sua dashboard minimal ma molto tecnologica. Adesso non possiamo accenderlo ma qua addirittura c'è un contagiri che riprende nelle linee quelli analogici degli anni passati ma in realtà è totalmente digitale. Belle le sue linee, belle le sue caratteristiche, entra in produzione finalmente, sarà disponibile nelle concessionarie da marzo 2018. Come potete vedere tanta tecnologia anche per quanto riguarda i led delle sue luci, riprende davvero in poco tempo quel prototipo di cui parlavamo due anni fa, tantissima tecnologia per quanto riguarda anche la parte elettronica, ci sarà un controllo di trazione previsto in serie su questa moto. Per quanto riguarda invece il prezzo 10.050 euro franco concessionario, le sue linee davvero sono, per quanto ci riguarda la tuffa al cuore, guardatela bene perché sicuramente è un mezzo molto interessante tra quelli che stiamo vedendo qua in EICMA. L'abbiamo nominata e allora l'informazione per quanto riguarda la Vitpilen 401 o meglio le due gemelle, una bianca e una nera, è che sono disponibili nelle concessionarie a partire dal mese di febbraio 2018 al prezzo di 6.550 euro. Questa è la Vitpilen 701, realtà vera dopo il prototipo visto due anni fa, commentate qua sotto cosa ne pensate e di dirci la vostra. Ci vediamo al prossimo video, intanto noi continuiamo a girare.